Buongiorno e benvenuti a questa zuppa di porro oggi dal mare ancora. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Quello fondamentale è lo show fatto da Matteo Salvini quando ha ricevuto al Ministero del Viminale portato dai carabinieri l'avviso di garanzia riguardo al sequestro di persona aggravato. Oggi ci sono tutte le ricostruzioni sul fatto che gli uomini che sono sbarcati con la 18, la nave che lui avrebbe sequestrato in maniera aggravata. Insomma una settantina di loro sono scomparsi, i giornali ci dicono che sono stati identificati ma in realtà c'è l'Unione Europea arrabbiatissima con noi perché una volta che li abbiamo identificati in realtà non abbiamo fatto nulla, li abbiamo lasciati andare addirittura con identificazioni senza foto qualcuno dice. Ma il punto fondamentale resta Salvini per una questione oggi che diventa politica come nota il Corriere della Sera e cioè che ci sarebbe uno scontro di fatto con i giudici e su questo scontro la dichiarazione del Ministro della Giustizia Bonafede avrebbe detto toni da seconda Repubblica. Mi chiedo se i toni di Salvini che sono toni certamente duri, clamorosi, l'idea che apre l'avviso di garanzia e lo appende al muro è un'idea plastica di contrapposizione. Un'altra delle cose che oggi i giornali citano è quando Salvini dice che sono stato eletto e loro no, qualcuno gli risponde hanno fatto un concorso, differenza tua, ma il punto fondamentale è se Bonafede gli dice che sono toni della seconda Repubblica. Mi chiedo quali erano i toni invece dei magistrati del Movimento 5 Stelle quando hanno indagato i magistrati la Raggi? Anche in quel caso una indagine assurda per quanto riguarda non l'indecenza di quello che faceva la Raggi, cioè la sua incapacità di gestire Roma, ma il fatto che lei si nomini un segretario amico per quanto mi riguarda non me ne frega niente, poiché sia amante e non amante chi se ne frega sono affari loro. Questo l'abbiamo detto all'epoca e lo continuiamo a dire ora, però i toni a quel punto nei confronti della magistratura non erano anche quelli, caro Bonafede da seconda Repubblica? Comunque sia, Salvini intanto, e questa è l'analisi di Sallusti, sta rompendo il patto all'interno del governo, che è un patto non detto, cioè che il Movimento 5 Stelle in realtà non deve perdere consensi e non ne deve acquisire troppo la Lega. Oggi, secondo Pagnoncelli sul Corriere della Sera, la Lega sarebbe salita, secondo i sondaggi, al 33,5% contro il 30% del Movimento 5 Stelle. Il resto non esiste, l'opposizione è praticamente rasa al suolo, un po' come avvenne quando Renzi ebbe il 40%, vi ricorderete, alle europee, quindi bisogna sempre stare attenti perché il punto fondamentale non è arrivare dei picchi di successo, ma cercare di mantenerli. Devo dire che comunque, tra il bene e il male, il vero dato è che il Movimento 5 Stelle, nonostante il governo, continua ad avere il 30%, vorrei essere un po' controintuitivo, sì, la Lega ha raddoppiato i suoi voti, ma il Movimento 5 Stelle sta governando da 100 giorni, non ha fatto assolutamente nulla, se non quella gagata del decreto di dignità, eppure prende più o meno gli stessi voti che ha preso nell'ultima politica. Quindi il dato è molto importante perché sostanzialmente l'area di governo ha circa il 65% del consenso nel Paese, che non è davvero poco. Sempre sulla questione di Salvini, Crippa sul foglio nota giustamente come Salvini non è Craxi, è un pezzo, come sempre fa Maurizio Crippa, un po' colto, un po' se volete involuto, ma molto interessante. Qual è la differenza tra la Lega di Salvini e il Partito Socialista di Craxi? L'uno sarebbe stato un furto di sistema, l'altro un pochino meno. Non condivido del tutto, è interessante comunque leggerlo per gli appassionati dell'ammarcordo politico correntizio. Nordio è straordinario e ha fatto bene il giornale a intervistarlo, il magistrato, come lo definisce il magistrato, è uno dei più grandi PM che ci siano stati in Italia. Dice una cosa molto semplice e che è chiara a tutti riguardo al sequestro dei 49 milioni, perché due sono le questioni giudiziarie di Salvini, uno è il sequestro di persone e l'altro è il sequestro dei 49 milioni, è una questione di sequestri. E Nordio che cosa dice? Insomma l'idea che si sequestrino gli oboli che si danno oggi alla Lega di Salvini attraverso il 2x1000 e gli eventuali finanziamenti non pubblici privati per pagare un reato che non ha nulla a che vedere con quegli oboli è un'assurdità giuridica e tra l'altro la Cassazione, dice, sulla scorta della quale il Tribunale del Riesame ha rideciso questa cosa, ha fatto una sentenza piuttosto equivoca. Insomma, Nordio, leggetevelo, perché poi voi leggete Travaglio sulla prima pagina del fatto e dite, eh, chiaro che si devono sequestrare questi soldi e sono il frutto del reato. No, non è così, non funziona così, non si toglie la concessione alle tue strade perché sono complici della morte di 43 persone, perché non è così semplice, perché siamo in uno stato di diritto, gli si fa un mazzo così, gli si fa ripagare il ponte, come hanno fatto poi e come stanno facendo, si inizia la procedura per togliere la concessione, è la differenza tra un Far West, non liberista, tra un Far West che ti è un cazzottone da parte del re a un sistema di diritto per cui gli togli la concessione con i criteri anche rapidissimi della concessione e lo metti in galera se ha rubato con le garanzie del Stato di diritto che per la Lega non sono state adottate. Nel frattempo stanno facendo questo famoso decreto che ha presentato Lieggi, scusate non è un decreto, è il disegno di legge, spazzacorrotti, chi l'ha fatto? Buona fede. Vabbè, l'intervista inutile della buongiorno oggi sullo spazzacorrotti e la buongiorno tra le cose inutili che dice, dice una cosa stupenda, per difendere Salvini non lo difende nel merito, cosa che avrebbe dovuto difendere, ma quella che è stata prima con Fini contro Berlusconi per la macchina del fango del giornale, poi con Monti, candidata alla presidenza della regione del Lazio, poi quella che della sua carriera non ha fatto nulla se non un urletto a favore delle camere quando assolsero Andreotti, è in grado di dire, Salvini non ha mai detto che il provvedimento è da parte di una magistratura politicizzata, no, non ha mai detto una cosa di questo tipo, ha semplicemente detto che quei magistrati non sono stati eletti e che sono tutti da una certa parte, buongiorno, leggilo, leggilo, tra le righe ce la fai anche tu, le altre questioni, interviste di oggi sulla questione Salvini vi segnalo Cantone che dice che si trova molto preoccupato, come buona fede, dei toni che sono stati usati da Salvini, cioè più che preoccupato da questo forse io sarei preoccupato dal fatto che un partito che fino a ieri non contava assolutamente nulla nonostante il suo consenso popolare, oggi è diventato, grazie all'operazione di un ministro di interni che è stato indagato per sequestro di persone aggravate, vi rendete conto? Non sono cazzi, sono 15 anni di galera e gli hanno sequestrato tutti i soldi futuri e venturi e su questo dopo il primo grado, quindi senza ancora una sentenza di secondo grado che dovrebbe arrivare tra poco e senza una cassazione e vi ricordo che questa sentenza, cosa che si dimenticano, era stato negato dal primo tribunale dell'esame, poi c'è stato il ricorso dei PM di Genova, poi è arrivata la sentenza della Cassazione che ha detto rivedete le carte in maniera equivoca come dice a Nordio, poi il tribunale dell'esame ha risequestrato, una cosa noiosissima e lunghissima che però vale la pena raccontare. Sull'Ilva del giorno dopo, dopo aver fatto l'accordo con gli indiani, oggi devo dire che sono totalmente d'accordo con una frase di Gramellini che è scritta molto bene, dice se i grillini strillano sogni e poi raccolgono compromessi, è evidente che poi gli italiani li fanno un mazzo così ed è riferito alla parlamentare grillina che aveva detto che l'Ilva si sarebbe dovuta chiudere, vagliela a spiegare agli stessi che a cui avevi promesso che si doveva chiudere perché ammazzava, inquinava, non serviva nulla e volevi fare un polo tecnologico ambientale della minchia, un po' come i bagnoli che non hanno fatto più nulla, vagliela a raccontare che poi dopo abbiamo assunto 10.700 persone e andremo a riprodurre, proveremo a riprodurre 8 mila tonnellate di acciaio dai 4.500 che ne produce oggi Ilva, prova a raccontare a questa grillina che erano tutte minchiate quelle che raccontavano sulla TAP, sulla TAV e compagnia cantante, cose che ovviamente tutti quanti noi sappiamo ma forse non il popolo grillino rincitrullito dai sogni irrealizzabili che gli hanno raccontato, la vogliono corcare di botte, come è successo ieri, ricorda Gramellini che lei è dovuta scappare aiutata dalle forze dell'ordine perché gli stavano facendo una specie di piazzarello retto portatile per questa ragazza grillina, innocente ovviamente se non nella follia delle sue idee. Fantastico oggi Battisti, Lucio Battisti, raccontato da Marcello Veneziani sul tempo, per quanto riguarda le cose leggere vi consiglio di vedervelo, l'unico cantautore italiano che non è stato preso dal lanza del 68 e dalla colonizzazione della musica americana. Spiegaci la tua tessera della Lega, Matteo Immobile, un cretino, un cretino, c'è sempre un cretino, Matteo Immobile è il cretino di oggi, spiegaci la tua tessera Lega, io non ho la tessera Lega per il semplice motivo che se gli do 50 euro gli sequestrano, cretino che non sei altro i magistrati, quindi io non ho la tessera Lega, quando ci sarà la nuova Lega della minchia io avrò la tessera Lega onoraria e la pagherò 500 euro, la tessera gold della Lega insieme alla tessera di Forza Italia che ho lì nel cassetto, alla tessera del sì che ho ancora lì, l'inizio di alcuni che mi seguono mi fa impazzire, è fantastico oggi il fatto quotidiano che è un po' come questo Matteo cretino che mi ha detto fammi vedere la tessera della Lega, è il fatto di oggi che ci spiega che Ase Argento piace al pubblico e non si capisce perché X Factor l'abbia fatta la Zilli che non so bene chi sia, ma deve essere una di queste cantanti super fiche del momento e quindi è mia ignoranza, non voglio essere ironico, dice il rock può valere qualche problema, qualche rottura di regole, se tu rompi le regole ma fai il rock lo puoi fare, il rock de che? Che cazzo di rock è quello di Ase Argento? E mi chiedo a Daniela Ranieri che è molto brava, che io stimo e che ha scritto il pezzo di oggi, scusami, ma il fatto che il pubblico ami Ase Argento, tutta roba da vedere perché tutta roba insomma che se la Zilli e Elio amano, voglio proprio vedere che il pubblico che ama, è già deciso che il pubblico lo ama, ti chiedo ma il pubblico non amava anche Kevin Spacey, Kevin Spacey House, ti ricordi quella roba che faceva Underwood il Presidente della Repubblica Americana, Kevin Spacey, la più grande serie di Netflix dopo Narcos? Eppure l'ha fatto fuori perché? Per dei sospetti di molestia sessuale, nella vostra follia totale per cui dobbiamo fare tutto il politicamente corretto? E poi il pubblico non amava i film di Weinstein o no, me lo sono sognato, e non amava i film di Brizzi che avevano grande successo, gli avete fatto un cazzo di culo così, adesso invece siccome è Ase Argento il problema è che il pubblico le piace, che il rock si può permettere Ase Argento? Io non lo so quello che sia, mi sembra assurdo sia l'uno sia l'altro, perché per quanto mi riguarda questa molestia nei confronti di un attore di 17 anni mi sembra una follia, così come mi sembra una follia che Ase Argento va nella camera di Weinstein e poverina è costretta a fare cose che non voleva e che denuncia dopo 20 anni, dopo aver avuto una storia con lui. Vabbè, però il problema è soltanto Ase Argento, non tutto quello che ha detto prima. Riguardo alla... ci sono due cosettine che vi volevo raccontare, i treni fermi sono diventati ormai una costante, io spero che i nuovi amministratori dei treni che sono figli dell'epoca Moretti siano in grado di gestire più i treni che la finanza, cosa che fece il loro predecessore nominato da Renzi, che è stato giustamente fatto fuori da questo governo. Ultime due notizie, Feltri candida a Minoli alla presidenza della Rai, dice fai arrivare il mic buongiorno dei giornalisti alla presidenza della Rai oggi sulla Verite, sul Libero e infine bellissimo il fondino di Italia Oggi, quello di 10 righe, non so come chiamarlo, che dice e racconta una cosa di buona fede e secondo me sacrosanta perché dice che buona fede non vuole all'interno del Ministero della Giustizia ripiazzare la Finocchiaro, magistrata che da 31 anni fa il parlamentare e che sperava dopo essere stata trombata alle elezioni di essere posta in un bel posticino al Ministero della Giustizia, dice non ce la voglio, continuo a fare il magistrato, non so cosa delle due sia meglio o peggio, ma la cosa fondamentale che dice oggi Italia Oggi questa idea che i comunisti, i dissini e il PD dopo che perdono i posti di lavoro vengono messi in delle situazioni, in dei gangli dello Stato belli accucciati senza far gran fatica e beccandosi bei soldi era tipica del berlusconismo che diceva tenemoseli boni ed è il motivo per il quale dice guarda un po' tutti i televisori, tutte le rassegne e stampe del mondo sono pieni di rassegne e stampe con il manifesto che ha inzuppato di i giornalisti tutto quanto l'etere italiano, dice basta con questa idea, quando tu hai perso le elezioni ritorna a fare il tuo mestiere, non fai il recuperato da qualche parte come recuperati sono stati tutti gli ex manifesti dalla televisione pubblica. Tesi d'Italia Oggi, suggestiva, piacevole, come sempre intelligente e fuori dagli schemi. Se vi è piaciuta questa zuppa condividetela, per la Finocchiario applausi a buona fede, dice qualcuno, mi chiede soltanto però se è meglio avere l'albinistero, zitta e buona a far l'usciere o a fare una che per 31 anni ha fatto il parlamentare andare a scrivere sentenze, non lo so. Ritorno in tv lunedì, non questo, prossimo con Quarta Repubblica faremo una televisione di politica molto seria, con toni molto seri, ma saranno molto simili diciamo né contenuti a quello che penso qui nella zuppa, anche perché non posso essere né uno né bio né trio, sono questa roba qua, la zuppa in televisione senza parabracce, ma con il garbo spero che riconosciate a un salotto che vede e viene visto da milioni di italiani. Ciao!